Paolo Lanfranco, sindaco di Valfenera e presidente della provincia di Asti, è il nuovo presidente della consulta Revaste di Anci Piemonte, l'ex Unione delle province piemontesi. Con quale spirito e con quali iniziative si prepara ad affrontare questo nuovo incarico? La consapevolezza di andare a ricoprire un ruolo molto delicato, in anni importanti per ricostruire la dignità, la piena operatività di enti fondamentali per il territorio piemontese, per i nostri cittadini, le province, l'ente di area vasta insieme alla città metropolitana sono necessarie tanto nell'ordinario quanto nelle situazioni straordinarie di emergenza per gestire il territorio, per fare manutenzione, prevenzione. Le funzioni di cui ancora ci occupiamo, oggi come nel passato, la sicurezza delle scuole secondarie, la sicurezza delle strade, la tutela dell'ambiente sono di una tale rilevanza che concretamente vanno seguite con attenzione dagli amministratori, dai sindaci, pretendendo di avere le risorse finanziarie e le risorse umane, il personale per farlo. Dal 2014 a oggi abbiamo subito dei tagli difficili da sostenere, le conseguenze sono visibili, sono sotto gli occhi di tutti. Chiediamo a ciascun cittadino piemontese di essere al nostro fianco per tornare a essere pienamente operativi. Grazie.